Napoli-Parma, forza ragazzi, la prima di Gattuso non la vedrò perché sono impegnato, devo andare a una festa, quindi purtroppo non vedrò la partita, però dico un messaggio chiaro e semplice ai ragazzi. Ragazzi non molliamo, alla prima di Gattuso io penso che lui ringherà e quindi io penso che lui darà forza, coraggio perché già urlato ha detto noi dobbiamo essere una squadra seria e combatta, noi dobbiamo essere seri, competti, dobbiamo giocare grandi e dobbiamo vincere, dobbiamo cercare di vincere la partita perché sarà difficile, in Parma ha Gervinio in attacco, quindi è una cosa molto difficile, in Parma c'è Gervinio infortunato, però c'è Cornelius infortunato, quindi c'è l'attacco decimato, torna in signe nel tridente, poi domani farei un video delle formazioni e niente, dico solo forza, coraggio, grinta, forza, dobbiamo lottare come il ringhio Ghiattuso ha urlato stamattina, al primo allenamento, dobbiamo avere forza, grinta e coraggio, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, forza, forza Napoli, domani contro il Parma, dobbiamo essere guerrieri.